I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgeri, hanno tratto in arresto tre uomini, tutti residenti in San Mauro Cilento, perché accusati di violenza sessuale. La scorsa settimana i carabinieri della stazione di Pollica hanno dato esecuzione agli ordini di carcerazione emesse dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono al 2010, allorquando in concorso tra loro con violenza costringevano una ragazza del luogo a subire atti sessuali. Secondo quanto appurato nel corso delle indagini, i tre fecero salire una loro amica sul sedile posteriore di una macchina, con la scusa di andare a prendere qualcosa da bere ad Acciaroli, ma durante il percorso svoltarono in una strada di campagna. Qui, senza che la ragazza avesse possibilità di vincolarsi e scendere dall'auto, si consumarono palpeggiamenti nelle parti intime nei confronti della giovane, che aveva tentato senza esito in tutti i modi di opporsi. A pronunciare la sentenza è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza di primo e secondo grado di condanna di quattro anni di reclusione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell'autorità giudiziaria.